Ciao a tutti ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Italia-Sammarino Partita più facile di questa sinceramente non c'è mai stata Il San Marino ovviamente è quella nazione di calcio che l'ultima partita vinta L'ultima partita vinta è stata nel 2004 contro un Mifari di Lussemburgo Poi il Linkenstein Non mi ricordo ma veramente non vince da quasi 20 anni una partita Ogni partita viene abbuffato di ceffoni da tutti, Inghilterra, Germania Un po' in pena mi sento per il San Marino Ma veramente stasera pensa che prenderà altri schiaffi Ovviamente penso che Mancini farà debuttare Raspadori Tanti altri giocatori che sono giovanili Ovviamente Gara non è abbastanza importante Perché ovviamente il San Marino si batte facilmente Quindi penso che stasera un sacco di giovani giocheranno E si trovano ovviamente i giocatori importanti Tipo Insigne, Belotti, Immobile Ovviamente per l'Europeo che inizierà tra meno di due settimane Quindi ovviamente giocare di amichevole è importante per riscaldarsi Oggi e ovviamente tra una settimana giociamo contro la Repubblica Ceca a Bologna E stasera giochiamo ovviamente a Cagliari alla Sardegna Arena Però comunque secondo me stasera con tutto il rispetto per il San Marino Arriverà una goleata Una goleata veramente prevista Perché ogni volta che giochiamo con il San Marino Veramente li distruggiamo L'ultima volta che ho giocato contro il San Marino è stato nel 2017 Li battemmo 8 a 0 Li distruggemo a pezzi 8 a 0 Poi nel 2013 vincemmo 4 a 0 a Bologna E poi non mi ricordo altre partite Però due partite che mi ricordo sono state nel 2013 Contro ovviamente il San Marino 4 a 0 a Bologna E poi 8 a 0 a Empoli nel 2017 Quindi secondo me stasera finirà come a Empoli Oppure di più non lo so Ma veramente stasera il San Marino con tutto il rispetto Non ha nessuna sciante di ovviamente batterci Perché ovviamente sono più forti di loro Tecnicamente tutto Quindi secondo me stasera vi dico adesso una goleata Comunque io penso che finisca 6 a 0 l'Italia Penso che segni Raspatori, Insigne, Belotti, Raspatori, Immobile e Chiellini Come se dico nei commenti le vostre petizioni Secondo me stasera lo dico ancora una volta Sarà una goleata mai vista Secondo me finirà 6 a 0 Lo dico per beneficenza per il San Marino Perché secondo me può finire di più Non lo so ma dobbiamo vedere stasera Comunque ciao forse sarà sempre E forse io e sempre ovviamente La prossima partita è contro la Repubblica Ceca Come ho detto venerdì 4 giugno E poi da lì ci prepariamo veramente per l'europeo Quindi saranno un sacco di partiti importanti Compreso ovviamente l'europeo E niente, ciao, forse io e sempre